Musica Ciao a tutti e benvenuti al World Truth della storia di Toriko in JSTAR Victory Versus Dopo che Tia vi ha proposto i primi due capitoli della storia di Rufy Ora io vi proporrò i primi due capitoli della storia di Toriko La modalità è strutturata nel medesimo modo Ovviamente cambieranno i protagonisti e cambieranno le vicende o almeno credo Adesso io ho fatto già per i miei un po' della campagna di Rufy che sta facendo Tia Quindi non ve la registrerò io per vedere un attimo come erano strutturate eccetera Per rendere più fluenti possibile questo video Quindi adesso abbiamo quattro Rico con tutti i suoi amici Uno Ricchione e uno un po' meno E adesso andiamo avanti Abbiamo tutte queste chiacchiere che tanto ormai lo sappiamo che è giapponese Insomma dai rega lo sapete E vediamo dove dobbiamo andare La modalità come vedete è strutturata nello stesso modo Con la barchetta spastica eccetera 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 Allora Andiamo qua Vediamo cosa succede Pò Ma ci schiantiamo contro Qua cosa E troviamo Goku Somo maestro Pò ci si picchia A occhio Picchia 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 Fai usare Toriko Ico Ico Qui abbiamo un Jstar Quiz Quale cazzo è la risposta? Non lo so Ah me È arrivato Rico Andiamo subito a prestare Son Goku No non voglio fare il tutorial What the Aia Aia Mi è arrivata una camia a me Aia Aia Stand Ecco E' fatto malissimo Goku Vieni qua che ti apri Aia Anche il fallo Aia Aia Dai ma è quasi morto Goku Muori Finish Yes Sono un pro Sono un pro Opa la la Toriko Vince Però è Goku che ha sdoganato l'arancione Ricordiamolo Tante da sapere Allora Danziamo Altre chiacchiere Goku siamo amici Adesso ci frequentiamo Goku Entra nella La squadra Ok Andiamo avanti Nuovo punto Nuova stellina per noi Ponzi ponzi Popopo Para para Allora C'è un'altra barca Andiamo a schiantarci contro Violento Violento PAM Molta violenza Allora Torito e Goku Fanno le chiacchiere Intanto Oddio Che cosa è successo Perché Goku è stato Sbalsato via Che tantissimo Allora Bla 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 E abbiamo Quello che suppongo Essere il boss di Toriko E il cattivo di Toriko Non lo so Dalla faccia È cattivo È molto sfregiato Ha i capelli rosa È grosso Il saldino malefico Mi sembra Mi sembra un cattivo A occhio Poi non so eh Comunque adesso Andiamo a picchiare Così siamo sicuri Qua ci fa vedere gli aiuti Di Gintama Andiamo Oppa la la Allora Andiamo un po' Mi sento Mi sento figo Quindi Super Saiyan Ok Dov'è Ciao 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 Fatto malissimo Sono ancora Super Saiyan Grande Diciamo di aver finito La parte del Super Saiyan Mi si è spinito Regà Mi si è spinito Super Saiyan Allora Mi si è spinito Super Saiyan Però adesso Aia Ma che cazzo È attivato What's up Merda Oh Tom 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 Da 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 Vittoria Con la camion mea Camion mea È Un sempreverde Guardate quanto è figo Goku Si sente bello Prendiamo un po' di punti Tutto questo gioco è potenzialmente infinito Quindi Sono state tranzolli Vediamo un po' Chi accade Chi accade Ci sono delle altre chiacchiere Codo Codo D'accordo Fuocco Accorcato Tra parentesi Entra lui In party E andiamo Ah Prima ci potenzia la nave Mi dà la bandiera Così ci sentiamo più feghe E Altre chiacchiere Salvataggio Che non può mai mancare In questo gioco Salva 8000 volte E Andiamo Abbiamo sempre queste affermazioni Molto pesanti Comunque Vediamo un po' Che accade Oh Ci hanno fermato Chiacchiere rompe Aè 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 Caga cazzo giallo Veramente molesto Questo gioco E' fastidioso Il suo manga comunque sta per uscire anche in Italia Se vi fa piacere sferlo Se lo volete leggere Io non lo leggerò perché Provo un obbio profondo verso questo PG Siamo Vai Partiamo Un quiz su One Piece Oddio Io non seguo One Piece Mi fa cagare One Piece Ma ci prendo E mi dai 170 Grande Bene Ti ho voluto bene Ok Andiamo No Non voglio fare tutorial Minchie varie E Aia Questo è un cazzo di male Sai è stronzo Sì Violento Violento Pessoalmente Vabbè Stai già morendo Devo dire che Goku Si è rivelato Buon PG si è Pam Pamm Facalo manca Di merda Sicura di merda Però è morto Dov'è l'altro? Come si è rivelato? Ma si è rivelato Dov'è? 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 Oh chiamiamo l'aiuto veramente sborone viviamo la mossa victory burst vai 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 e voilà bene rega è stato sconfitto anche lui una vera pippa vogliamo bene così perché è un po' pippa tanto facciamo un level up fa sempre piacere e noi direi che adesso guardiamo un attimo il level up e poi direi che ci vediamo con il prossimo video domani alle 15 ovviamente su world game tube mi raccomando anche di seguire 3 little birds per godervi tutti i boss di dark soul 2 fatti dal grande nick e games that news per godervi il world truth sia dal lato buono che dal lato cattivo di infamous second sun ovviamente su ps4 tutti i giorni alle 14 e alle 18 detto questo io vi saluto e ci vediamo con il prossimo video domani alle 15 sempre qui ciao a tutti ciao a tutti